Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, per essere qui. Io vi rubo veramente un momento intanto per fare soprattutto il grande in bocca al lupo alla nuova presidente del centro studi Valeria Tassinari. Buonasera a tutti. L'argomento è anche estremamente attuale. Vi ringrazio nuovamente, vi porto anche i saluti del sindaco della giunta e a questo punto vi lascio anche la parola a Lorenzo, il direttore dei musei civici. Grazie a tutti. Buonasera a tutti, anche io sarò molto molto breve perché la conferenza di questa sera è una conferenza estremamente interessante che coinvolge un argomento che oltre che ad avere una rilevanza culturale molto forte è anche addestato anche moltissima curiosità. Parliamo del casino Ludovisi che è una delle opere principali di Guercino ma in questo momento è oggetto anche di una vasta letteratura giornalistica proprio perché è stato messo in vendita. Questa conferenza è la prima presieduta dal nostro nuovo presidente del centro studi internazionale del Guercino Valeria Tassinari che inaugurerà con questo incontro appunto la sua stagione di direzione di questo importante centro. Passo la parola a lei che vi illustrerà l'andamento della conferenza. Buonasera. Grazie, io mi tolgo la mascherina perché voglio farvi un sorriso e che dimostra insomma il mio piacere di essere qui in questa veste. ringrazio naturalmente l'amministrazione, in primis il sindaco Edoardo Accorsi e l'assessore alla cultura che è accanto a me qui ma diciamo sempre nel lavoro del centro studi e con grande piacere e orgoglio ricevo il testimone da Salvatore Amelio che è qui e che desidero molto ringraziare per l'attività e anzi vi chiedo un applauso per lui. perché è stato grazie alla sua presenza e al suo impegno che questo centro studi del quale io sentivo parlare da quando ho iniziato l'università quindi veramente da molti anni è diventato una realtà nel 2017 e tra l'altro Barbara Gelfi che è qui oggi come relatrice è anche una componente del consiglio scientifico del centro che è un consiglio scientifico di grande livello e che presto amplieremo grazie proprio alla volontà dell'amministrazione pubblica di fare sempre di più di questo centro studi, un centro studi di portata internazionale ma anche attento alla valorizzazione di questo territorio quindi sicuramente abbiamo uno strumento molto importante molto efficace che dobbiamo perfezionare e dobbiamo fare funzionare sempre di più sempre lavorando in sintonia con la direzione dei musei civici e dell'assessorato abbiamo una prospettiva molto positiva e molto bella perché finalmente possiamo pensare a una data approssimativa ma insomma diciamo certa di riapertura della nostra pinacoteca quindi il centro studi sarà in questo periodo un luogo di affiancamento della riapertura della pinacoteca non si dedicherà solamente al guercino ma certamente in maniera prevalente al guercino io come molti di voi sanno perché io sono veramente a casa qui ho un percorso molto legato anche alla scuola quindi sono insegnante delle superiori ho insegnato per molto tempo anche all'Accademia di Belle Arti ho insegnato ai docenti che dovevano formarsi quindi penso che la divulgazione e la condivisione della ricerca scientifica sia la mia vocazione principale dunque per me questo è un ruolo che mi impegnerà nel portare l'eccellenza degli studi e dei ricercatori a contatto diretto con questa città e con un pubblico naturalmente anche il più allargato possibile dai bambini alle persone che ancora non conoscono la nostra cultura ai grandi appassionati in questa sala ce ne sono molti che tanto hanno già conosciuto e seguito del guercino ma che ancora desiderano aggiornarsi e saperne di più la conferenza di questa sera è una conferenza che mi rende doppiamente felice da un lato sono due relatrici donne e questo è l'ennesima conferma che nella storia dell'arte il femminile ha dato e sta dando veramente tanto sono due docenti universitarie sono due docenti universitarie che hanno gravitato molto intorno all'università di Bologna e quindi il luogo dove mi sono formata anch'io ed è un luogo dove insomma la stagione del guercino e l'era del guercino di Guido Reni dei Carracci è sempre stata vissuta come un'età dell'oro per cui abbiamo sicuramente condiviso grandi professori e tante esperienze all'interno di quell'università e l'altra ragione è che abbiamo l'occasione di parlare di una situazione che è veramente sotto l'attenzione internazionale quindi la vendita all'asta del casino Ludovisi che come sapete è già passato in asta una prima volta un'asta che è andata a deserta ma un'asta che ha fatto parlare tutti i media internazionali ha scatenato anche molta attenzione, discussione, polemica per la quotazione ma non solo anche per quello che può significare la potenziale perdita di un bene che se va all'asta e diventa di proprietà di un privato potrebbe essere meno visibile questo tema però oggi è ancora aperto perché la prima asta è andata a deserta tornerà in asta a quanto sappiamo il 7 aprile e a un prezzo ridotto quindi c'è un ribassamento della base d'asta ma le tematiche rimangono quelle quindi si aprono molti interrogativi di questo luogo ci parlano appunto due esperte sia esperte della figura del Guercino ma anche proprio di quel luogo in particolare perché come vi racconteranno hanno avuto modo di vivere molto da vicino sia la bellezza delle opere del Guercino sia tutta la vicenda che riguarda anche l'attribuzione di un valore economico che spesso non coincide con i criteri e questo non coincide a volte con i criteri di attribuzione del valore estetico vi presento le relatrici Raffaella Morselli è professoressa ordinaria di storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Teramo e presso la stessa università è rettore supplente per i programmi culturali Barbara Gelfi è professoressa associata di storia dell'arte moderna presso il Dipartimento di Beni Culturali Alma Mater Studiorum, Università di Bologna e responsabile del centro studi sull'opera d'arte della stessa università Barbara è una figura che ha già frequentato questa sala e questo tavolo molte volte che abbiamo già avuto occasione di sentire in altre occasioni e Raffaella Morselli ci fa veramente un grande regalo venendo qui con noi questa sera grazie e buon ascolto naturalmente al termine avremo la possibilità di rivolgere anche qualche domanda alle relatrici grazie grazie buonasera a tutti mi smaschero anch'io così mi faccio vedere sono anch'io un abitué del centro studi di Guercino e cento sono già stata diverse volte per un convegno, per delle conferenze insomma siamo amici del Guercino tutti quanti ringrazio moltissimo la presidente Valeria Tassinari per questa presentazione per questo invito mi fa molto piacere peraltro vedere il direttore del museo che è un amico abbiamo studiato assieme all'Università di Bologna vero Lorenzo quindi ci ritroviamo qui oggi come se non fosse passato il tempo in realtà non dico quanti anni ma troppi eravamo giovani giovani storici dell'arte che sognavamo ognuno i propri guido i collezionisti insomma ognuno i propri tracciati quindi ci ritroviamo oggi qua e mi fa molto piacere come mi fa molto piacere che ci sia Fausto Gozzi con cui da tanti anni condividiamo pensieri parole ragionamenti attorno a Guercino oggi io e Barbara Gelfi vogliamo farvi vedere e parlare di due anni di lavoro serrato su l'aurora di Guercino e Guercino e i Ludovisi stiamo proprio in questi giorni approntando un volume monografico che è un volume monografico di storia dell'arte cioè della rivista di storia dell'arte della Sapienza quella di Calvesi per intenderci che per la prima volta dedica un numero monografico e lo curiamo io, lei e Daniele Benati ed è proprio Guercino e l'aurora e il casino dell'aurora d'altra parte come diceva prima la Presidente il tema dell'aurora è un tema veramente scottante io credo di non aver fatto non so quante interviste ma almeno più di 50 interviste durante l'autunno soprattutto con dei media americani inglesi e francesi sull'aurora perché Barbara ed io abbiamo avuto la fortuna insomma abbiamo costruito anzi questa fortuna a partire dal 2019 quando abbiamo chiesto alla Principessa Rita Buoncompagno Ludovisi che è una gentilissima ospite americana vedova del Principe Ludovisi se potevamo continuare questa mappatura che Barbara Gelfi sta facendo con il centro diagnostico di cui è responsabile e questa volta mettere i ponteggi un trabattello mobile sotto l'aurora sotto la fama e sul paesaggio di Guercino nella Camera dei Paesaggi nell'aurora la Principessa è stata così gentile così appassionata che ci ha aperto le porte di casa e quindi per due settimane Barbara abbiamo avuto l'opportunità di salire e scendere da questo trabattello mobile e vedere da vicino Guercino non solo vederlo da Guercino da vicino perché poi Barbara vi farà vedere che cosa è stato fatto su questo affresco sono state scattate delle macro fotografie a una risoluzione pazzesca che oggi ci permettono di portare avanti un'indagine piuttosto serrata proprio sulla tecnica di Guercino che è un tema di cui si occupa Barbara Gelfi ma appunto ritorniamo al tema dell'aurora perché nello stesso momento in cui forse poco dopo lo smontaggio dei trabattelli sull'aurora gli eredi della principessa Ludovisi hanno fatto causa alla principessa alla vedova perché volevano per questioni ereditarie insomma questioni ereditarie e a quel punto lì il giudice del tribunale di Roma ha chiesto una perizia sul valore proprio del casino Ludovisi ora voi sapete che nel casino Ludovisi ci sono sia gli affreschi di Guercino nella parte inferiore nella parte superiore e soprattutto c'è anche un Caravaggio l'unico Caravaggio su muro che in realtà è un olio su muro quindi è come se Caravaggio dipingesse una pala d'altare però su un soffitto che sta proprio vicino alla fama e questa perizia l'hanno chiesta al professore Alessandro Zuccari il quale mi ha coinvolto e quindi ho passato con lui altro tempo a cercare di ragionare su come si poteva valutare un'opera di questo tipo che immagino che sia anche il tema di cui tutti vogliono un po' sapere oggi perché tanto si è scritto anche sui giornali italiani servizi televisivi di tutti i tipi era un tema che ci ha veramente spiazzato perché non si trattava di valutare un immobile come molti hanno detto ma questa è una valutazione da immobile si doveva trattare come un immobile non è possibile trattarlo come un immobile è l'ultimo baluardo intanto di una villa pazzesca che veniva costruita da Ludovico Ludovisi a partire dal 1621 sugli orti sallustiani una villa che da lì occupava colline e colline fino a Santa Maria Maggiore dove erano veramente esposti i marmi della collezione Ludovisi dove c'era il palazzo grande oltre all'aurora che Stendhal raccontava come un posto magico e unico posto magico e unico che con lo sventramento di fine ottocento e la vendita da parte dei Ludovisi proprio di tutti i lotti attorno ha fatto sì che si costituisse attorno all'aurora un nuovo quartiere un quartiere di fine ottocento un quartiere molto piemontese con palazzi ovunque quindi quello che noi vediamo oggi dell'aurora è una cinta muraria e una montagnola su cui c'è questo incredibile palazzina ci si arriva camminando in un giardino ma in realtà tutto attorno abbiamo l'hotel Ludovisi abbiamo cioè vediamo tutto attorno quello che è la Roma a Umbertina quindi è un luogo molto protetto ma nello stesso momento molto fragile pensate che questa lite che ha portato gli eredi a fare causa alla principessa parte da una speculazione che avrebbero voluto fare cioè un altro parcheggio sotto la palazzina allora la palazzina ha un problema di carattere statico ci vogliono come avete letto 11 milioni di euro sono stati valutati i lavori per metterla in sicurezza solo quello poi ci sarebbe da togliere le tutte queste questi appartamenti che sono stati costruiti dentro la palazzina anche negli anni 50 negli anni 60 quindi a un certo punto c'è l'inolio ma a un certo punto sono controsoffittati pensate che Caravaggio sta praticamente in uno sgabuzzino dove ci sono delle scarpe ecco e questo per dirvi di che cosa com'è adesso la villa quindi ci siamo chiesti con Alessandro Zuccheri come facciamo a valutarla cioè come immobile non può essere valutato perché è un immobile che ha dentro Guercino Caravaggio Domenichino perché ci sono la stanza dei paesaggi con Viola Domenichino e Paul Brill quindi è come se noi andassimo a valutare la Cappella Sistina come un immobile noi prendiamo perché quello è un immobile ma sì però dentro c'è Raffaello e c'è Michelangelo in fondo il casino dell'Aurora Ludovisi è un po' la Sistina del Seicento troviamo Caravaggio e Guercino e Domenichino nello stesso momento e quindi avevamo bisogno parlandone anche ovviamente col giudice il quale ci ha consigliato di non trattarlo così come come un immobile come erano già stati fatti delle vendite di ville veneziane palladiane dove però non c'erano degli affreschi di Guercino e di Caravaggio magari c'erano delle decorazioni rococò diverse di diversa natura e quindi abbiamo cominciato a ragionare sull'estensione e anche questo non è stato facile perché non ci troviamo a sviluppare un metro quadro lineare ma ci siamo trovati a sviluppare dei soffitti che hanno degli angoli degli angoli arrotondati e soprattutto dovevamo trovare il punto di diciamo la pietra di Paragone da dove si partiva beh per Caravaggio era abbastanza semplice perché siamo partiti dall'ultima assicurazione di un quadro di Caravaggio che è stato assicurato per portarlo a una mostra se quel quadro viene valutato così allora anche il soffitto del casino dell'Aurora può essere valutato nello stesso modo perché perché è un olio è un olio che potrebbe benissimo essere staccato adesso io ho letto tante insomma anche delle interviste che ci hanno fatto così in tanti soprattutto gli americani ci chiedevano ma come mai Caravaggio non l'hanno portato via in effetti si poteva perfettamente portarlo via perché si come è stato fatto all'inizio del novecento per tantissimi altri pittori si poteva staccare a massello cioè si staccava tutta la porzione di muro non è stato portato via perché non si sapeva che ci fosse Caravaggio semplicemente questo quindi per Caravaggio è stato più semplice abbiamo sviluppato questo valore assicurativo e l'abbiamo appunto sviluppato moltiplicato per i metri quadri ed è venuto quello che è venuto e Guercino come facevamo a valutare Guercino il Guercino più bello il Guercino 1622 1621 un Guercino che intinge nel pennello di Tiziano e di Dosso che rompe gli schemi dell'architettura imposta imposta da Agostino Tassi che si libera dalle dalle cinghie della della cultura romana come facevamo a valutarlo abbiamo preso l'ultimo adesso passo velocemente qua abbiamo preso l'ultimo quadro anzi un quadro questo che è la toilette di Venere che è passata sul mercato qualche anno fa che si trova è stato comprato da un fondo di investimento che l'ha depositato presso la Goethe Academy in California un quadro peraltro un po' rovinato un po' pasticciato così abbiamo preso il valore di questa tela perché questa tela stava proprio lì nella collezione Ludovisi quindi è stata dipinta da Guercino per Ludovico Ludovisi e si trovava in collezione quindi abbiamo sviluppato questo questo valore per i soffitti e sapete tutti cosa è venuto fuori alla fine di valutazione una valutazione pazzesca 476 milioni di euro vedo che ne strabuzza gli occhi sì 476 milioni di euro certo ma le sembra tanto per due soffitti di Guercino un soffitto di Caravaggio tutte le architetture di Agostino Tassi e quattro paesaggi pazzeschi con le cornici di Nicolò Circiniani e poi sì c'è anche Valesio ma insomma rispetto a loro non vale nulla Valesio questo perché perché ci serviva anche per in qualche modo vincolarla perché se non avessimo valutata secondo le stime di un immobile un immobile di super pregio ma un immobile beh venivano fuori 15 milioni di euro 20 ma non dico chiunque probabilmente io no e molti qua no però un signore abbastanza ricco magari che voleva avere una sede di rappresentanza se la poteva comprare una volta una banca adesso forse non più però qualcun altro insomma poteva arrivare a comprarla e invece proprio d'accordo con il giudice che ci ha spinto a a porre l'attenzione proprio sull'unicità abbiamo fatto questa valutazione una valutazione che ha innescato un meccanismo di di confronto molto 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 diretto e molto dibattuto perché qualcuno ha detto ma con questo prezzo lo Stato non può acquistarlo è vero però tutti sanno che soprattutto nelle questioni di tal genere nessuno compra alla prima battuta nessuno credo comprerà il 7 aprile ma non credo che nessuno comprerà poi magari vengo smentita ma la nostra paura era che arrivasse un russo che lo trattasse come un super yacht e lo acquistasse però per quali interesse poi peraltro è un bene vincolato quindi non è che ci può fare degli appartamenti dentro ovviamente no e e quindi e quindi siamo stati molto convinti di questo quindi la terza battuta probabilmente non andrà venduta neanche la terza battuta allora che cosa succede il prezzo continua a scendere e a quel punto si va a trattativa privata allora se lo Stato volesse comprarlo in trattativa privata potrebbe acquistarlo ma lo Stato ha mille altre cose a cui da seguire da veramente di 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 manutenzione straordinaria non credo che il nostro ministro sia interessato a fare questo acquisto per il ministero invece quello che noi speriamo che succeda è che ci sia a un certo punto un accordata di pubblico privato soprattutto privato che però fa un accordo col pubblico una nuova formula che permetta di entrare in un bene che rimane privato ma che ha un accesso al pubblico la cosa interessante è che tutto questo ha fatto sì che le giornate di primavera del FAI aprono proprio l'aurora di Guercino quindi immagino che fila ci sarà per l'aurora del Guercino però si possono vedere questa era una cosa che non era mai successo prima mai successo bene ci si mette in fila chiunque può andare a vedere l'aurora e Caravaggio ma peraltro la principessa a pagamento ovviamente ha sempre organizzato delle visite guidate quindi non è un bene che ovviamente ha pagamento ma che si può è accessibile è accessibile perché lei è veramente molto molto dedita alla a preservare a preservare questo patrimonio e poi se volete ne parliamo ancora con delle domande ma adesso vorrei un po' andare avanti e non ma era e parlare un po' di questo rapporto di questo libro anche che stiamo facendo con Barbara e con altri colleghi che doveva mettere a fuoco soltanto l'aurora e le indagini diagnostiche quindi la tecnica di Guercino su cui ci sono moltissime novità perché Guercino continuiamo a dire che non dipinge a fresco quindi dipinge a tutt'altro ma non a fresco in realtà questo volume che stiamo anzi abbiamo chiuso proprio questo weekend ha moltissime novità per quanto riguarda il display della collezione per quanto riguarda la tecnica di Guercino da a partire da 100 fino all'ultimo a fresco cioè quello bolognese con Ercole Anteo e molti altri temi su i connazionali che vivevano con Guercino a Roma che lo seguono e sul perché soprattutto Guercino si trasferisce a Roma cosa altro Barbara quali altri saggi ci sono la fortuna critica dell'aurora del Guercino la fortuna critica non solo nelle fonti ma anche nelle stampe poi due grandi saggi proprio che prendono in considerazione la fortuna e anche la storia sia della e anche i modelli che passano attraverso l'aurora e attraverso la fama e i paesaggi perché Guercino dedica un paesaggio meraviglioso nella sala dei paesaggi a concorrenza degli altri bene ma la domanda che ci siamo poste subito è stata quando Guercino va a Roma nel senso che le fonti dicono che lui segue Alessandro Ludovisi che diventa Gregorio XV nel 9 novembre del 1621 appena diventa papa nomina suo nipote Ludovico Cardinale Arcivescovo di Bologna al posto suo e che chiamano Guercino a Roma per dipingere la Santa Petronilla cioè la grande pala in San Pietro e una loggia delle benedizioni che purtroppo Guercino non ha eseguito purtroppo per fortuna perché se fosse rimasto a eseguire la loggia delle benedizioni per 22.000 scudi forse non avremmo avuto il Guercino del decennio successivo e avremmo avuto tutta un'altra storia quindi la domanda è ma quando veramente Guercino entra in contatto con Alessandro Ludovisi perché Alessandro Ludovisi è l'arcivescovo di Bologna della cattedrale di San Pietro ovviamente ed è il cardinale poi successivamente quindi un prelato alto prelato che le fonti tramandano avere un rapporto diretto con un unico pittore Guercino non abbiamo notizie di lui che ha rapporti strettissimi con Guidoreni piuttosto che con altri con Ludovico Carracci sappiamo che li ha incontrati per forza stava a Bologna e quindi sappiamo soprattutto qui da questa lettera che Ludovico Carracci scrive a Ferranti Carl qui a Bologna aveva un giovane di patria di cento che dipinge con somma felicità di invenzione è gran disegnatore felicissimo coloritore è mostro di natura è miracolo da far stupire chi vede le sue opere non dico nulla e i farimene stupidi gli primi pittori ecco quindi Ludovico sappiamo Ludovico Carracci primo pittore della città in questo momento sarebbe morto due anni dopo quindi un pittore che ha tutto a disposizione vede questo giovane prodigio che poi non è più neanche così giovane nel 1617 è già un pittore maturo vede questi suoi quadri e dice io sono rimasto esterefatto dietro voi sappiamo tutti che c'è padre Mirandola che spingeva Guercino verso una nuova direttiva che era quella più più internazionale era quella che lo portava fuori da 100 tant'è vero che Alessandro Ludovisi deve essere rimasto folgorato da questo pittore un pittore che scardina completamente per impostazione questo felice colorismo questa pittura così macchiata che non aveva mai visto prima eppure stava già collezionando Guidoreni perché nella sua collezione in prima battuta al 1623 troviamo sette opere di Guido quindi devono essere sette opere che Alessandro o il giovanissimo Ludovico comprano a Bologna fatto sta che per il ritorno del figlio al prodigo di Torino della Galleria Sabauda per la Susanna Ivecchioni e soprattutto per il lotto e le figlie questi su questi primi tre quadri Ludovico Carracci che è il perito della compagnia dei pittori valuta un prezzo di 70 scudi l'uno troppo? no un'operazione commerciale equa per un pittore non noto molto interessante e quindi una valutazione da pittore diciamo di medietas al momento e Alessandro Ludovisi invece li compra per 75 scudi tutti e tre ora io non credo che Guercino fosse contento di questa operazione non lo è perché poi c'è una lettera sempre del 1617 dove salta fuori che è padre Mirandola che lo spinge a prendere queste commissioni per poco per veramente poco e quindi c'è una necessità forse anche di Guercino di liberarsi da questo da padre Mirandola e di seguire i suoi connazionali a Roma fatto sta che quindi non è che ha subito da Alessandro Ludovisi un incarico così stellare 75 scudi per tre quadri di questo tipo sono veramente vi assicuro molto molto pochi però lo aiuteranno ad entrare nelle grazie di questo che di lì a poco diventa improvvisamente Gregorio XV Ludovisi allora ci siamo chiesti ma Guercino ha un incarico come arrivano? Guercino lo troviamo a vivere in un appartamento di via Paolina con Lorenzo Gennari con Guido Cagnacci che non ci aspettavamo di trovare lì con Guercino in un appartamento allora se lui avesse avuto un incarico da Gregorio XV avrebbe vissuto Palazzo e soprattutto avrebbe avuto un incarico di uno qualsiasi tipo come chi? Beh come i suoi connazionali Giovanni Battista Viola e Valesio che entrambi avevano avuto degli incarichi per 500 scudi l'anno quindi avevano uno stipendio uno perché doveva leggere i documenti che faceva Ludovico Ludovisi quell'altro doveva mettere i sigilli fatto sta che però erano stipendiati Guido e invece Guercino scusate Guido perché non ho fatto altro in settimana che parlare di Guido Reni perché stiamo facendo la mostra alla borghese su Guido Reni che vi invito a vedere Guercino non ha nessuno stipendio quindi non deve essere stato incaricato di qualcosa né da Alessandro Ludovisi né dal giovane cardinale quindi è uno dei tanti che alla volta dell'elezione del nuovo papa bolognese decide visto che ha un contatto con lui di trasferirsi a Roma è chiaro che poi a Roma è un susseguirsi di successi ma quando arriva a Roma Guercino non è nessuno perché il pittore del papa non è Guercino è Domenichino il segretario di stato del papa è Giovan Battista Gucchi amico di Annibale Carracci e protettore di Domenichino Domenichino sta dipingendo nei migliori cantieri in quel momento e infatti anche Guercino comincia ad entrare tramite i suoi connazionali tramite i bolognesi nelle grandi decorazioni dipinge anche per Scipione Borghese che è un po' il rivale di Ludovico Ludovisi l'altro cardinal nipote che alla morte del papa era diventato rimasto cardinale e non era stato eletto papa quindi insomma non è che andasse molto d'accordo con i ludovisi però Guercino lavora anche per lui allora come fa poi Guercino ad arrivare ad essere quello che è perché come fa ad arrivare a dipeggere l'aurora c'è un aneddoto che era un po' sfuggito fino a questo momento che si trova raccontato da Malvasia nella vita di Domenichino che a un certo punto Ludovico Ludovisi credo prima del 1621 va a trovare Giovan Battista Gucchi con un quadro sotto il braccio allora un quadro che non poteva essere grande doveva essere un quadro trasportabile piccolo e parlano di pittura bolognese e a Gucchi insomma dice che per lui ovviamente è meglio Domenichino però perché era il suo protettore viveva con lui Domenichino io credo che il quadro che Ludovico Ludovisi avesse portato a far vedere a Giovan Battista Gucchi è questa fantastica visione di San Girolamo che si trova al museo del Louvre a Parigi una piccola rame di queste dimensioni 45x40 quindi molto facile da trasportare che però già alimenta una conoscenza un inserimento di Guercino nella Roma classicista di Annibale e di Domenichino e ovviamente di Agucchi da quel momento la la strada grazie alla velocità e l'invenzione di Domenichino galoppa e quindi riesce ad entrare secondo noi come primo come prima battuta a in quel grande cantiere che è il Casino dell'Aurora dove per primo comincia a fare un paesaggio un paesaggio che riflette le fontane i giochi di non so se ce l'ho questa diapositiva è più avanti ecco questo è il Casino dell'Aurora e questo dovevi farle vedere tu vero? niente torno indietro sì 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 lo fai vedere tu allora forse non c'è questa qua il paesaggio ah lo fai vedere tu allora no non voglio spoilerare Barbara Gelfi comincia con il paesaggio entra quindi lavora con Domenichino con Viola che è amico di Domenichino e con Paul Brill che è il grande paesaggista della Roma di quegli anni e evidentemente il cantiere si muove e a un certo punto Domenichino ha un altro incarico perché sappiamo che cosa sta dipingendo proprio in quel momento lì evidentemente Domenichino non può e chiedono a quel punto a Guercino di dipingere l'Aurora e l'Aurora è il suo lascia passare perché poi subito dopo nel settembre del 1622 gli verrà commissionata quella sì è una commissione importante la commissione per una pala di San Pietro questa non è Ludovico è proprio il Papa che glielo commissiona perché è una pala non so se l'avete vista sapete che è alta più di 6 metri quindi quando la vediamo ai musei capitolini riusciamo sempre a vedere solo la Santa Domitilla che ci arriva qui il resto è talmente alto che non riusciamo a concepirlo però questo veramente è una commissione che gli arriva da chi lo aveva amato molto fin dall'inizio e cioè tra Gregorio XV lui viene pagato in tre tranche come al solito 600 scudi quindi non come gli altri che di solito si prendeva mille scudi circa per le pale in San Pietro però è già una valutazione che fa capire quanto sia cresciuta l'apprezzamento di Guercino anche all'interno di un mercato così difficile come quello romano questo è il quadro di cui vi ho parlato prima quindi dipinge anche per la collezione Ludovisi ed è un quadro che si misura ovviamente con chi beh con Tiziano nell'omaggio a Venere che si trovava in collezione ma soprattutto questo rapporto diretto che Guercino ha con il Papa si evince da questo ritratto un ritratto privatissimo che si trova adesso a Los Angeles al Getty Museum un quadro incredibile di ci sono quattro ritratti di di Gregorio XV in due anni che stupiscono perché sono tre su tela e uno su marmo uno è di Guidoreni uno è di Domenichino uno è di Guercino e l'altro è di Bernini guardate che per un Papa che è stato due anni avere quattro ritratti tutti diversi è di questo tipo eseguiti da quattro pilastri della storia dell'arte di cui tre bolognesi mi sembra una cosa unica assolutamente bene di questi ritratti quello che Guercino dedica a Gregorio XV è il ritratto privato quello di Guido è il ritratto pubblico ufficiale quello di Domenichino è il ritratto familiare dove entra ovviamente anche Ludovico che è in piedi secondo un modello di ritratto che viene anche da Raffaello e quindi dai ritratti con il cardinal Nepote vicino che tiene una lettera eccetera eccetera che guarda caso in collezione si trovava proprio vicino a un altro quadro con il fratello di Gregorio XV come ha dimostrato in questo nuovo saggio Laura Bartoni di Passerotti che si portano da Bologna a Roma perché tutti i quadri li trasferiscono a Roma i ludovisi e poi c'è il ritratto di Guercino ecco il ritratto di Guercino è il ritratto più incredibile che abbiamo di questo Papa perché Guercino usa solo cinque colori qua il bianco il rosso e il verde l'oro e bianco, verde, rosso oro e il bruno dello sfondo non c'è nessun elemento che lo connota come Papa se non la berretta e l'abito non ha la pantofola come in Domenichino non ha il breviardio non ha la campanella non ha l'anello non ha nulla questo è un uomo che sta leggendo e viene disturbato alza gli occhi al pittore mette un segno con il dito nel libro per poter tornare indietro e lo fissa un uomo anziano già maturo sofferente si vede in questo ma con uno sguardo attentissimo Guercino vedete che taglia con questa diagonale di ombra il ritratto che è una cosa molto caravaggesca che non gli è conforme negli anni successivi quindi questo già dimostra quanto guardasse in quel momento e chi guardasse Guercino come riuscisse a guardare a 360 gradi quello che stava succedendo dicevo questa palette veramente molto molto limitata ma molto molto intensa questo è un ritratto ed è un discorso un discorso tra due uomini tra Guercino e tra e Gregorio quindicesimo Barbara passo a te scusate devo mettermi gli occhiali perché invecchiando non ci vedo più come prima salve a tutti buonasera a tutti grazie per essere qui ringrazio Valeria ringrazio Silvia Silvia Vidoli e l'amministrazione insomma per questo invito ci fa sempre molto piacere venire a Cento e in questa occasione parlare di di Guercino e dei Ludovisi è un argomento che ci sta molto a cuore come avete capito dalle parole della professoressa Morselli perché dopo queste indagini diagnostiche che abbiamo condotto sulle pitture murali è meglio chiamarle così è meglio chiamarle pitture murali non affreschi del casino Ludovisi un'indagine un lavoro che abbiamo svolto nell'autunno del 2019 nel novembre del 2019 proprio prima che scoppiasse insomma la situazione pandemica e grazie come diceva Raffaella la gentilezza la disponibilità della principessa Ludovisi noi abbiamo potuto fare tutta una serie di macro fotografie di fotografie dettagliate alle due volte alle volte dei due saloni il salone a piano terra in cui si trova l'aurora appunto questo invece è il salone la decorazione della volta del primo piano del piano nobile dove invece abbiamo quest'altra pittura murale di Guercino meno conosciuta rispetto all'aurora che rappresenta la fama con l'onore e la virtù manca qui in questa immagine tutta la cornice dipinta la cornice architettonico decorativa che è stata realizzata da Agostino Tassi ad Affresco e qui possiamo parlare appunto di Affresco perché si vedono le giornate perché Agostino Tassi lavorava appunto in collaborazione col Guercino però usando una tecnica diversa Guercino invece qui usa una tecnica di cui vi parlerò meglio tra poco adesso vi mostro le immagini dunque al piano nobile c'è questa decorazione il salone di 20 metri di lunghezza per circa 12 mi pare di larghezza è decorato nella volta con questa pittura mentre al piano terra si trova la famosissima Aurora che credo insomma che conosciamo tutti perché su tutti i manuali è considerato il capolavoro di Guercino la fase apicale della sua attività di decoratore e inoltre in più accanto al salone dell'Aurora si trova un piccolo un ambiente più piccolo che consente di raggiungere la loggia della villa e il cosiddetto la cosiddetta sala dei paesaggi dove si possono ammirare quattro paesaggi uno dei quali appunto viene realizzato dal Guercino ed è questo che vedete il paesaggio con scherzi d'acqua gli altri sono opera di Paul Brill di Domenichino e di Giovanni Battista Viola di cui vi ha già parlato la professoressa Morselli quindi queste sono le decorazioni che appunto abbelliscono il casino il casino Ludovisi prima di spoilerare come si dice in termini moderni di dire qualcosa a proposito delle scoperte che abbiamo fatto con queste con queste indagini volevo fare così un brevissimo excursus percorso un breve percorso per spiegare un po' come Guercino arriva a Roma cioè chi è Guercino decoratore prima di Roma che cosa ha fatto prima di giungere lì le fonti Malvasia in primis ci spiegano che la formazione del Guercino era avvenuta proprio presso alcuni decoratori emiliani Guercino aveva frequentato alla Bastiglia di Modena un pittore di Guazzo che si chiamava Bartolomeo Bertozzi quindi nel 1600 quando aveva solo nove anni si era spostato nella bottega del quadraturista Paolo Zagnoni per poi collaborare con Giovan Battista Cremonini che era di Cento e che era anche egli un pittore e noto soprattutto come decoratore Zagnoni e Cremonini deve averli frequentati anche nel momento in cui questi lavoravano in cantieri bolognesi quindi il giovane Guercino dobbiamo immaginare che si sia recato a Bologna ben prima del fatidico 1617 in cui va appunto a Bologna per lavorare e per mettersi al servizio del cardinale Alessandro Ludovisi e ecco Malvasia e Scannelli entrambi ci dicono che il giovane Guercino aveva ammirato le opere dei Carracci e anzi aveva potuto mostrare i suoi disegni a Ludovico Carracci al caposcuola dell'abitura bolognese che lo aveva incoraggiato a percorrere la strada di quell'originale in maniera spontanea e macchiata che ne contraddistingue la produzione giovanile nel 1607 Guercino si sposta nella bottega centese di Benedetto Gennari Senior alla cui scomparsa nel 1610 subentra nella direzione dell'attività quindi un Guercino che come capiamo compie la sua prima formazione presso dei pittori che si occupano soprattutto di pittura murale e negli anni successivi lo troviamo impegnato ancora nella realizzazione di pitture murali dopo aver eseguito e lo abbiamo visto anche alla mostra Emozione Barocca la Madonna di Reggio o della Ghiara che secondo appunto le testimonianze secondo i documenti le fonti viene realizzata sulla facciata della casa paterna da un giovanissimo pittore che ha solo otto anni la svolta nella carriera dell'artista dell'artista centese è rappresentata dall'incontro nel 1612 con il canonico lateranense Antonio Mirandola che diventa il suo primo protettore colui che lo sponsorizza come lo promuove come vi ha spiegato poco fa la professoressa Morselli poi nel 1612 Guercino dipinge due angeli che reggono il telo della Veronica che oggi sono nella chiesa di Santa Maria Dolorata dei Servi e poi ancora le virtù cardinali sulla proprio sulla facciata del palazzo comunale le virtù cardinali che oggi naturalmente non esistono più sono perdute però Malvasia ci dice che ebbero un successo tale che tutti i pittori che molti pittori di Bologna si spostarono qui a Cento per venire a vederle quindi un Guercino decoratore che già intorno al 1612 quindi molto giovane è come dire è ammiratissimo è ricercato per non parlare delle decorazioni che lui esegue dei cantieri che lui sovraintende tra il 1612 e il 1617 nelle case della Borghesia Centese stiamo parlando del fregio di casa Provenzali scusate le pitture murali di casa Pannini e di casa Benotti Chiarelli che sono state recentemente acquistate dal comune di Cento dunque un artista molto attivo nel campo della decorazione che nel 1616 questi sono le pitture murali di casa Provenzali non mi soffermo a parlarne perché sono già state oggetto di un'altra conferenza che abbiamo tenuto e abbiamo sottolineato la bellezza di questo fregio che non solo i termini cioè le finte statue che inquadrano gli episodi con le storie di Provenco sono bellissimi come già sono straordinari di una qualità altissima come già diceva Maon ma anche le stesse storie anche gli stessi episodi qui ne vedete uno che come dire ci raccontano le avventure di Provenco sono di una qualità altissima e sono da riferire al giovane artista anche il prometeo della fondazione della cassa di risparmio che si trovava in casa Fabri dove Guercino aveva fondato la sua Accademia del Nudo un giovane artista che però aveva già una sua Accademia una sua scuola dove secondo Malvasia sempre secondo Malvasia ma attenzione perché Malvasia riceve queste informazioni probabilmente dagli stessi Gennari dagli eredi di Guercino quindi dobbiamo pensare che siano informazioni attendibili che siano informazioni nelle quali dobbiamo credere cioè il giovane Guercino che giovanissimo insomma fonda un'accademia degli allievi che vengono da ogni parte d'Italia addirittura dalla Francia quindi doveva già essere conosciuto doveva già essere quel mostro di natura di cui l'anno successivo di lì a poco parlerà Ludovico Carracci come abbiamo visto nella lettera che vi ha mostrato Raffaella poco fa il 1617 rappresenta poi una tappa cruciale per una tappa chiave nella vita del pittore di Cento che si sposta a Bologna e dipinge questo questo che dovrebbe essere è un affresco c'è una parte ad affresco a buon fresco poi ci saranno sicuramente anche dei ritocchi a secco però ecco questo viene questo quest'opera viene descritta da Gaetano Atti come l'affresco nell'oratorio di San Rocco che rappresenta la furiosa presa del Santo che calugnosamente notato di delazione viene dannato al carcere questo affresco che tuttora Ivi si ammira fu con invidiabile facilità condotto in mezza giornata quindi Atti ci dice che Guercino è in grado di realizzare un'opera straordinaria in mezza giornata forse non è vero però però in ogni caso questa questa testimonianza ci dà la misura della velocità che doveva e della velocità di esecuzione sulla quale poteva contare l'artista e di questo siamo abbastanza sicuri anche dopo soprattutto dopo le indagini diagnostiche che abbiamo condotto sulle sue opere quindi la testimonianza di Atti mette in evidenza che appunto parla di una tecnica buon fresco e di un'esecuzione velocissima un sarrocco che è un chiaro omaggio a Ludovico Carracci che era il suo artista di riferimento il suo appunto modello fin da giovanissimo e e con lo stesso con la stessa potenza fisica e con lo stesso dinamismo Guercino doveva avere realizzato anche l'Ercole Lidra un dipinto chiaroscuro Ercole Lidra che lui dipinge sulla facciata di Palazzo Tanari a Bologna un'altra opera che doveva essere un'opera molto importante ma che non esiste più perché è perduta abbiamo ci rimane la ci rimangono ci rimane la testimonianza delle fonti e le fonti ci parlano della forza dei lumi e delle ombre ci parlano dell'effetto della prospettiva di un carattere sommo e grandioso di uno squisito stile gusto di macchia insomma un'altra opera davvero stupefacente che deve aver colpito i pittori centesi e d'altra parte è proprio il momento in cui Ludovico Carracci scrive quella lettera che abbiamo visto prima nella quale descrive Guercino come gran disegnatore felicissimo coloritore mostro di natura miracolo da far stupire chi vede le sue opere veniamo quindi questo era per farvi capire che Guercino arriva a Roma con una preparazione importante come decoratore e questi sono i suoi biglietti da visita soprattutto le opere bolognesi e quando giunge a Roma gli viene affidata la decorazione dell'aurora noi pensiamo che e questo forse lo posso dire che prima si è discusso tanto su quale sia la prima tra le decorazioni che lui realizza per una serie di ragioni che vi spiegheremo nel libro che speriamo uscirà entro l'estate quindi questo numero speciale della rivista storia dell'arte per una serie di ragioni noi pensiamo che la prima decorazione che lui realizza nel casino Ludovisi sia l'aurora quindi la prima che gli viene affidata è l'aurora l'intelagliatura architettonica che vedete e che i manuali vi dicono viene realizzata da Agostino Tassi in realtà pensiamo noi pensiamo che sia un'opera di collaborazione tra Tassi e Guercino cioè probabilmente Tassi Agostino Tassi ha aiutato l'artista a creare questa struttura architettonica ed è possibile vedere le linee le tracce dell'architettura i segni dell'architettura ma poi tutti gli elementi decorativi che vedete qui sono di marca guerciniana cioè sono chiaramente tipicamente suoi e ci sono degli elementi dei dettagli che si riconoscono anche a casa Provenzali per esempio quindi è un sistema di decorazione collaudato che lui porta a Roma nella saletta dei paesaggi questa è una delle foto che abbiamo fatto purtroppo dopo ho anche qualche dettaglio questa è una l'immagine che abbiamo ottenuto accostando mettendo insieme centinaia di scatti perché questa foto questa foto che vedete che sembra semplicissima sembra appunto una ripresa fatta da appunto da sotto in su e in realtà è il risultato dell'accostamento della combinazione di centinaia di scatti di ogni singola parte del soffitto della volta di scatti avevo messo Guido Reni per farvi vedere la differenza tra l'aurora che Guido realizza nel 1614 per Scipione Borghese e che pensa come un quadro riportato applicato al soffitto del casino di Scipione Borghese oggi casino dell'aurora Pallavicini e invece Guercino rinuncia completamente a questo sistema del quadro riportato che era già tradizionalmente acquisito perché lo troviamo anche nella volta della galleria di Palazzo Farnese quindi il grande modello di Annibale Carracci che fa scuola in questo senso Guercino lavora in maniera diversa e invece immagina Aurora con questa appunto all'interno di questa finta architettura illusionistica che si apre verso il cielo e che si muove Aurora si muove lascia Titone lascia l'amante Titone che è quella figura maschile quell'uomo anziano che vedete sulla sinistra e squarciando la notte le tenebre annuncia il giorno annuncia una nuova alba annuncia una nuova fase politica culturale che è rappresentata dai Ludovisi quindi un'immagine celebrativa encomiastica della famiglia ma quello che volevo farvi vedere è il paesaggio eccolo qua il paesaggio di cui parlava prima la professoressa Morselli è questo appunto paesaggio con scherzi d'acqua che Guercino realizza nella saletta accanto al salone dell'Aurora e qui lavora come abbiamo detto insieme a Domenichino a Brille e a Giovanni Battista Viola ma è un paesaggio straordinario perché è un'istantanea di vita realistica potente priva di filtri idealizzanti che rimanda direttamente alle esperienze centesi quindi ricorda i paesaggi di Casa Pannini che avete qui in Pinacoteca ha questo taglio è stato detto questo taglio accidentale casuale è proprio un momento un brano di vita come per esempio il bellissimo paesaggio al chiaro di luna che è conservato ma qui sto parlando di un dipinto mobile ovviamente conservato al Museo Nazionale di Stoccolma dove si vede questa carrozza che transita davanti a noi insomma anche qui l'idea è un po' la stessa di rappresentare sulla sinistra un edificio classico con un sistema di terrazze di scalinate sotto abbiamo questa fontana con queste figure che corrono via tra lo spaventato e il divertito perché si sono attivate le cannelle che spruzzano l'acqua quindi questi giochi d'acqua che divertono che creano questa situazione di appunto di divertimento di meraviglia ma insomma ci colpiscono i contenuti certamente il tema ma senz'altro anche la freschezza dell'invenzione dell'esecuzione che ci mostrano un guercino ormai maturo dopo le esperienze centesi e bolognesi vorrei finire con ma non riesco più ad andare avanti quindi ah scusate se adesso sì questi sono dettagli particolari dell'aurora sul carro sempre le immagini ad alta definizione che abbiamo fatto nell'ambito di questa campagna fotografica e di analisi diagnostica e i bellissimi cavalli nei quali si vede qui spoiler l'uso del cartone qui evidentemente guercino usa dei cartoni e si vedono i puntini diciamo che lui cioè i puntini scuri che appunto sono dati dall'aver forato questi cartoni e aver distribuito poi una così del carboncino del carbone della graffite insomma si vedono tutti questi segni a conferma che lui quindi qui ha utilizzato dei cartoni ed è invece davvero sorprendente davvero straordinaria questa questa pittura che si trova al primo piano cioè la fama con l'onore e la virtù dove la fama è naturalmente la figura che vedete in alto con la la tromba e il ramo di olivo sotto ci sono sotto c'è questo c'è questo angioletto in volo e accanto a lui il questo puttino con la corona e accanto a lui ci sono l'onore ecco questi sono gli ingrandimenti l'onore e la virtù l'onore è armato di lancia coronato di alloro e tiene un vaso traboccante di frutta la virtù è una giovane donna con l'armatura come vedete che gli cinge le spalle i colori rosso e oro sono i colori araldici sono i colori dei ludovisi e qui è stato detto Guercino rivaleggia con con la purezza intellettuale di Guido di Guido Reni e di Domenichino perché ci offre un'immagine completamente diversa fresca immediata insomma molto particolare nell'ambito della decorazione encomiastica le figure di Guercino hanno tutta questa energia sono tra l'altro sono dipinte avendo alla base questo disegno a mano libera che vedrete nel volume appunto che stiamo che stiamo che stiamo per pubblicare cioè si vedono le tracce del disegno di un Guercino che disegna direttamente sul muro ed è fantastico insomma ci sono delle parti qui che sono davvero straordinarie la gamma cromatica così intensa così ricca rimanda a suggestioni venete e ferraresi ai modelli che il giovane Guercino aveva studiato tra Venezia e Ferrara ecco quindi concludo aggiungendo qualcosa a proposito della tecnica perché ve l'avevo anticipato all'inizio per quanto riguarda queste decorazioni noi non possiamo parlare di affresco tradizionale perché Guercino in realtà mette a punto un procedimento complesso caratterizzato dall'utilizzo combinato dell'affresco perché alcune parti sono effettivamente ad affresco un utilizzo appunto un procedimento che combina l'affresco tradizionale con la pittura secco con tanti con tanti brani realizzati a secco quindi realizzati direttamente sul muro un muro o bagnato ma diciamo non bagnato veramente ma reso umido e quindi sostanzialmente un muro che accoglie la pennellata che accoglie il colore ma che non lo assorbe veramente quindi ci siamo resi conto che ci sono delle parti ad affresco e poi però ci sono tante parti a secco cioè lui dipinge come se dipingesse su una tela perché evidentemente questo è il sistema che gli torna più comodo più congeniale alla sua indole quindi gli permette tra l'altro di fare dei cambiamenti in corso d'opera di togliere di aggiungere i brani che inizialmente non erano previsti ciò nonostante ecco tuttavia nonostante questi aggiustamenti questa messa a punto di una tecnica così particolare che è evidentemente efficace insomma perché gli consente di realizzare una decorazione così importante se noi sfogliamo il libro dei conti che viene compilato tenuto a partire dal 1629 ci accorgiamo però che i cavalli di battaglia di Guercino sono altri cioè che Guercino da un certo momento in avanti non fa più il decoratore fa il pittore di pale d'altare di soprattutto mezze figure soprattutto mezze figure di Santi insomma lui la sua fortuna la fa in questo modo cioè ed è chiaro scorrendo il libro dei conti lui la sua fortuna la fa vendendo queste opere cioè pare d'altare mezze figure figure cioè teste insomma questa è la grande produzione di Guercino ed è questo che gli consente di affermarsi come uno dei più originali pittò e ricercati artisti del 600 italiano grazie mille però naturalmente siamo qui ad aspettare le vostre domande se ne avete se ce ne sono volentieri Valeria vuoi rompere il ghiaccio tu è qua buonasera due cose prima una curiosità diciamo così croacistica voi avete parlato di Agostino Tassi che a meno che non sia un omonimo è quello che venne condannato per lo stupro alla Artemisia di Gentileschi è condannato come come pena alternativa quella del dello stracismo da Roma noi invece ce lo troviamo qui bello tranquillo che sta dipingendo nella palazzina Ludovisi questa è una curiosità che mi non so se voi siete in grado di chiarire un'altra cosa prendendo spunto dal vostro programma mi è venuto in mente che tantissime ne fa anticamente io ho letto un liberco con un certo manuale di un certo Matteo Marangoni non so se sia famoso in cui metteva a raffronto l'aurora del del Reni con l'aurora del Guercino e ricordava palazzo diceva che il Bayron pianse davanti all'aurora del Reni mentre dice così il Marangoni era misconosciuta l'aurora del Guercino lui però prende nettamente distanze e dice che l'aurora del Reni non è un campo lavoro è accademico dice il Marangoni è accademico la luce viene diffusa indistintamente le figure sono sono quasi poco interessanti mentre esalta come giustamente voi avete fatto l'opera del del Guercino nel Guercino ecco di fronte alla questa è la mia domanda di fronte all'aurora del Reni cioè le obiezioni del Marangoni sono ancora valide? Bella domanda allora rispondo alla prima su Agostino Tassi allora nel libro abbiamo anche un saggio di Patrizia Cavazzini che è l'esperta di Agostino Tassi che ha ricostruito al millesimo la vita di Agostino Tassi Agostino Tassi non solo aveva stuprato Artemisia Gentileschi ma tutto quello che ne consegue ma aveva già stuprato anche un'altra Pisa poi era scappato con la cognata a Roma cioè uno che ne combinava di tutti i colori quindi diciamo era meglio non avere a che fare con Agostino Tassi e poi era un pittore famosissimo lui tutte le quadrature le fa lui a Palazzo Lancellotti a a Palazzo Costaguti le fa tutte Agostino Tassi e lavora con Guercino e con Dominichino quindi Agostino Tassi i documenti hanno ricostruito che in realtà non ha avuto l'ostracismo da Roma ma invece era un così faceva parte delle tante pene che lui aveva che poi commutava in denaro e in altre cose ma era sempre sulla pubblica piazza e lavorava tantissimo perché era praticamente l'unico quadraturista che c'era a Roma ed era anche un fiorfiore di quadraturista per quanto riguarda Reni e Domenichino allora certamente l'aurora di Reni era molto più nota di quella di Guercino ma io vi ricordo anche che Caravaggio è stato pubblicato nel 1971 prima non si conosceva questo fresco di Caravaggio cioè è scomparso completamente poi abbiamo fatto anche un'indagine Ilaria Miarelli Mariani sulle incisioni le incisioni ricordano l'aurora ma mai la fama come se nessuno fosse andato al piano superiore invece sappiamo dalle cronache che si visitava molto anche il piano superiore eppure scompare dall'orizzonte certo evidentemente nel casino Rospigliosi che era già quello di Scipione Borghese evidentemente ci si accedeva più facilmente dentro evidentemente sì allora io sono stata su entrambi i ponteggi quindi li ho visti da vicino tra l'altro l'aurora di Reni è stata restaurata appunto quest'anno ed è stata inaugurata qualche settimana prima della mostra di Guido Reni beh sono due cose completamente diverse l'aurora di Reni è un è un cammeo viene dalla cultura antiquaria tutto l'azzurro che vedete è in lapislazzulo ed è vi assicuro tantissimo quindi è un affresco ricchissimo Guido ha avuto una disponibilità di mezzi che sicuramente Guercino non ha avuto non ha avuto quella di Guido va in un'altra direzione rispetto a Guercino quella di Guercino rompe completamente quella di Guercino l'avete vista prima in quella immagine da sotto con la quadratura di tassi che la sfonda completamente e lui rompe la cornice come diceva la professoressa Gelfi e fa uscire la potenza dei suoi cavalli della sua notte di tutto quello che si inventa qua addirittura non so se lo possiamo dire ma è stato trovato proprio il disegno della della volta dove si affacciano quelle due figure che volutamente Guercino ci dipinge sopra quindi lui lo vuole rompere quello di Guido è un dipinto più classico è un dipinto più archeologico ma vi assicuro che è difficile decidere per l'uno o per l'altro in questo momento in cui sto sul doppio binario Guido e Guercino mi è molto difficile decidere se mi piace di più l'uno o l'altro sono veramente eseguiti a distanza di sette anni e sono due mondi completamente diversi da vedere entrambi comunque ricordatevi che la fresca rospigliosi si vede tutti i martedì del primo martedì di tutti i mesi si può entrare a Roma quindi anche qui è accessibile non credete quando leggete è inaccessibile chiuso al pubblico non c'è niente di chiuso al pubblico è un po' più faticoso approcciarsi bisogna andare lì apposta per vederlo e mettersi sul calendario che ci si deve andare il primo martedì però ci si va a vedere ed è così è incredibile è veramente incredibile però sono due hanno due funzioni diverse perché il casino di dove sta l'aurora di Guido è lì un piccolo padiglione nel giardino e invece dove sta Guercino l'avete visto è una palazzina dove ci sono molte altre cose ci sono più piani questo no è un padiglione proprio una funzione completamente diversa Barbara vuoi aggiungere tu? ci siamo dimenticati di dire che questo numero speciale monografico è sponsorizzato dalla fondazione Maon quindi ci teniamo moltissimo a dirlo perché ovviamente Sir Dennis è stato un maestro un amico e una guida per Guercino e ha fondato gli studi guerciniani e altra cosa è che gli affreschi come avete visto sono in una condizione conservativa molto difficile un po' un po' pericolosa quindi speriamo bene che qualcuno compri il casino e metta mano con la soprintendenza al restauro perché c'è una perdita c'è stata una perdita d'acqua sulla fama c'è ci sono ormai delle fessure di questa non so se si vede qua non so se si vede qua o qua guardate guardate quello vicino si dovrebbe vedere abbastanza bene del putto ci sono dei sollevamenti pazzeschi cioè è una condizione molto pericolosa questi per esempio il piano superiore scompare dalla tradizione della fortuna critica non viene inciso nessuno ne parla è come se non esistesse ma d'altra parte vi ho detto Caravaggio è scomparso ritrovato nel 1971 nessuno nessuno l'ha mai citato se non Baglione ma però nessuno l'ha mai più seguito dice c'è dipinto per il Cardinal del Monte in un certo casino Plutone basta anche Caravaggio naturalmente non è un affresco no? l'abbiamo quello è proprio un olio su muro questo è un olio su muro e si vede anche abbastanza bene direi dov'è? torno indietro ancora no no mi sa che sì non so l'avevi fatto vedere ecco ma a livello di proporzione non c'è proporzione è come dire Guercino lo troviamo tutto su questo su questa sala e Caravaggio lo troviamo in questa campata qui così cioè un rapporto dimensionale completamente diverso questo d'altra parte stava in un camerino alchemico che era un camerino chiuso quindi adesso è un piccolo corridoio di passaggio con gli armadi a muro però era quello comunque il 25 26 marzo il file lo apre quindi se qualcuno vuole andare a Roma a mettersi in fila si può vedere ah sicuro infatti la vado a vedere io che fila ci sarà perché dopo questa pubblicità voglio capire fino a dove arriva la fila quanti giri fa ecco io richiamerei un attimo il discorso che avevi accennato che avevate poi entrambe accennato all'inizio cioè questa potrebbe essere una grande occasione per mettere alla prova un nuovo modello di alleanza pubblico privato che in fondo è quello che tutti auspicheremmo perché pensare a un'acquisizione a un restauro da parte dello Stato è abbastanza irrealistico in questo momento nello stesso tempo non va demonizzato il privato di fatto questo è stato privato sempre come tanti beni sono privati anche pensiamo alla Francia all'Inghilterra che è una lunga tradizione di relazione pubblico privato per l'apertura ma anche le nostre ville venete insomma volendo sono già state un modello di questo qui addirittura si era proprio anche ipotizzata una revisione del codice di tutela dei beni culturali approfittando di questo caso un po' come accade in tribunale quando c'è un caso nuovo fa legislazione quindi volevo un po' sapere che cosa ne pensate a chi interessa c'è una lunga intervista mia su about art online quindi la trovate libera proprio su questo tema qui su tutto il racconto di come l'abbiamo periziato e su questo tema qui proprio del rapporto pubblico privato insomma io sono una fautrice di questa nuova relazione potrebbe crescere nascere un modello nuovo perché è vero che si tratta di un bene privato che deve essere acquisito probabilmente o da un privato o da un accordato di privati ma il bene è pubblico perché comunque è sottoposto a vincolo e non ci si può fare niente quindi è un bene di difficilissima acquisizione perché non ci si può fare un albergo un appartamento o suddividerlo come si vuole quindi è difficile anche da pensare che qualcuno lo acquisisca e allora ci vuole un modello nuovo un modello che permetta l'acquisizione ma nello stesso momento la fruizione però mantenendo lo standard della conservazione che viene suggerito dai beni culturali insomma perché stiamo parlando appunto avete visto di affreschi dei capisaldi della storia dell'arte del 600 italiano del 600 mondiale ecco appunto come vi dicevo prima tanti mi hanno chiesto ma come mai non l'hanno portato via questo Caravaggio no è vero come mai perché non si sapeva che ci fosse anzi aggiungo un'altra cosa che se andate sul sito della rivista storia dell'arte è stato reso fruibile quindi lo potete downloadare l'articolo del 1971 quando è stato proposto questa nuova attribuzione a Caravaggio quindi lo potete leggere e l'altra invece è Boutard però vorrei dire meno male che non è stato portato via sì esatto meno male la rimozione degli affreschi meno male però voglio dire se uno va a vedere Hearst Castle in California ci sono intere intere camere veneziane che sono state smontate all'inizio del 900 dove hanno portato via il soffitto il camino e le decorazioni tutto tutto veniva smontato quindi era molto probabile che avrebbe potuto essere smontato anche questo non era difficile pensate che quando i Ludovisi abbandonano questo e anche il palazzo grande si costruiscono quel tremendo palazzo che ora è sede dell'ambasciata americana e quello era il palazzo Ludovisi nella nuova sistemazione ottocentesca quello era il palazzo Ludovisi dove adesso c'è l'ambasciata americana quindi vicino a questo quindi anche da loro è stato un po' a un certo punto abbandonato questo giardino dell'Eden questo sogno che Stendhal dice non esiste posto al mondo più bello dove ci sono le fontane dove ci sono le statue antiche dove c'è il giardino delle statue perché Domenichino disegna il giardino delle statue che stava proprio davanti alla stanza del cammino o la stanza dei paesaggi quindi c'era questa idea di continuità dentro e fuori questo smosita dentro e fuori tra i paesaggi dentro e il paesaggio vero e il paesaggio immaginato reale anche quella fontana che disegna che dipinge Guercino con gli scherzi d'acqua probabilmente era una fontana che stava lì o nella villa di Frascati insomma ci sono molti rimandi alla contemporaneità quindi noi ci auguriamo che ci sia questo modello che si va davanti in questo ragionamento ma certo che passare all'asta attraverso un'eredità controversa non aiuta credo a nessuno a nessuna acquisizione qualcuno ha ancora qualche domanda da porre a queste relatrici straordinarie grazie per lo straordinario straordinario Guercino beh diciamo che insomma non solo ci avete portato una testimonianza da storiche dell'arte ma da storiche dell'arte che veramente hanno vissuto in maniera molto ravvicinata sia questa vicenda sia la materialità di queste pitture quindi grazie ancora vi invito a tornare con noi il 2 aprile quando parleremo invece del ruolo che ha avuto Antonio Canova per il recupero dei guercini portati in Francia quindi restiamo sempre su tematiche molto attuali perché oggi si parla tanto delle restituzioni e del problema delle opere sottratte vedremo come alle origini della nostra pinacoteca c'è proprio questa azione di un grande artista che è stato capace di difendere in parte in gran parte per fortuna il nostro patrimonio grazie e buona serata grazie grazie grazie